Beh amici, oggi ho deciso di sfidare un embargo, ma voi sapete cosa sono gli embarghi? Praticamente a volte le case mi mandano in anteprima qualcosa che non posso rivelare fino al giorno X in cui quella cosa sarà presentata Vabbè, vedrete un pochino sfocato, ma non preoccupatevi non sarà colpa del vostro schermo del telefono, ma sarà colpa mia perché se mi sgamano poi è un disastro Prima busta, cosa c'è dentro? Oh, il Kobo Libra H2O Questo l'ho chiesto io in prova all'ufficio stampa di Kobo perché molti voi quando ho fatto la recensione... Ma porca miseria, ho dimenticato il taglierino Ero troppo eccitato dal pacco sotto embargo Lo vado a prendere Eccolo qua, stavo dicendo, quando ho fatto la recensione del Kindle Oasis mi avete detto, ah no, ma vabbè, ma provi Kobo, sono figli, costano meno, hanno un buon ecosistema Allora, voilà, accontentati Pacco Surprise, cosa c'è dentro? No, vabbè, ma parliamone che Lego a mia insaputa mi manda scatole di mattoncini Tra l'altro mi sembra anche molto molto fica No, non c'è scritto ADV perché Lego, almeno a me, non paga Me l'ha mandato a sorpresa Comunque ringrazio perché con Gabri ci divertiamo un sacco con i Lego E adesso cosa apro? Questo embargato... No, vabbè, dai, apro questo, l'embargato, lo lascio per la fine Cosa c'è dentro questo sacchetto? Oh, finalmente! L'Active 2 Allora, dopo la recensione di questo... Caspita, non lo potevo dire Anche questo qua lo presentano domani Vabbè, domani che è il 10 arriverà la recensione di questo E mi vedrete al polso questo Active 2 di Samsung Adesso a noi due Quanto dovrò pagare se lo sgamate di penale per aver violato un embargo? Vabbè, vediamo se riesco a raccontarvelo senza farvi capire nulla Iniziamo con la scatola Peso della scatola? Boh, intorno ai tre t e mezzo Dentro la scatola le solite istruzioni E ovviamente anche lo smartphone Spellicoliamo Spellicola 2 E c'è anche il proteggischermo, sentite? Beh, ci sono proteggischermo messi meglio e messi peggio Questo era messo molto bene E il rumore, secondo me, è caratteristico Lo accendo Display AMOLED No, la risoluzione non ve la dico E la frequenza di aggiornamento Non ve la dico Però vi posso dire che in mano si tiene abbastanza bene Abbastanza grande Abbastanza bilanciato Oh, si è acceso Attenzione C'è l'italiano? C'è l'italiano E questo non è sempre scontato nei telefoni che unboxo Non vi dico com'è la vibrazione Perché è un grande indizio dirvi com'è la vibrazione Al Wi-Fi 5 GHz È collegato Al volo Vi dico se non c'è il jack delle cuffie Anche questo sarebbe un grande indizio Però no, non ve lo dico Ma c'è la Type-C L'altoparlante Accensione e spegnimento Su questo lato Ma c'è solo l'accesso e spegnimento? No, c'è anche un'altra cosa Che non vi dico E qua ci sono i pulsanti per il volume sopra Vabbè, che ha la pop-up Ve lo dico o non ve lo dico? Vabbè, facciamo finta che io non ve l'ho detto Ci sono i servizi Google Perché ho appena inserito il mio account E le fotocamere Bah, visto così Sembrano tante Sicuramente ci sarà una grandangolare Sicuramente ci sarà una zoom Sicuramente ci sarà una 48 megapixel E forse c'è qualcos'altro? Hmm, non lo so Aggiungo l'impronta digitale Che è sotto al display E voilà Siamo online La fluidità mi sembra buona Ha sicuramente un processore Snapdragon Ha il drawer Sì, ha il drawer Chissà se si può togliere Iniziano ad arrivare un po' di suonerie Ah, la suoneria potrebbe essere un indizietto Che mi potrebbe far sgamare La batteria Secondo me è intorno ai 4000 mAh Forse un po' meno Forse un po' di più Non lo so Diciamo, lì nell'intorno E ha sicuramente la carica Super rapida Vabbè, basta Vi ho detto già troppo Ah, una cosa non vi ho detto Che domani sono a Londra Alla presentazione di uno smartphone Hmm, vabbè Pronto? Dove devo firmare l'assegno Per la penale? No, Alt Fermi tutti Questo unboxing arriva in ritardo Perché stamattina stavo per pubblicarlo Mi chiama Samsung E mi fa Ho un pacco bomba per te Allora mi chiedo Ho parlato male dei Samsung ultimamente Ma nooo Guardate cosa c'è qua dentro E cosa mi hanno mandato Una scatola per celebrare i dieci anni di Galaxy Eh sì, sono già dieci anni dal primo Galaxy Allora Il dieci di ottobre mi hanno raccontato Vediamo tra l'altro cosa c'è in questa scatola No, ma questi sono Sono Oh, sono pure buoni Biscotti Per festeggiare appunto questo decennale E mi hanno detto Che in questa occasione Faranno degli sconti bomba sul proprio e-commerce Allora Io ho deciso di fare una cosa Visto che mi è andato in anteprima Le offerte ci saranno Ovviamente non posso raccontarve Ma vi dico che dalle 22 Quindi dalle 10 di sera Del 10 ottobre Quindi domani 22 del sera 10 ottobre Ci saranno in offerta scontati Fino al 50% Dei Galaxy E quindi può esserci tutta la gamma Galaxy E quindi ci possono essere i wearable E quindi ci possono essere i tablet Io so cosa ci sarà Vi assicuro che ne va la pena Ma per seguire il live Perché non è che alle 10 Ci saranno tutti i prodotti già subito disponibili Ne arriverà uno alla volta Non ci saranno disponibilità illimitate Allora con offerte.tech Che è il mio canale Telegram Che gestisco insieme a Un paio di formidabili ragazzi Lo seguiremo live Quindi adesso io vi lascio Qua sotto in descrizione Il link Della home page Della promozione E della landing page Per festeggiare questi 10 anni di Galaxy Ma soprattutto Scaricatevi Telegram Se non ce l'avete Che è un programma di messaggistico Con luce meglio di Whatsapp Convincete i vostri amici A farlo E usate quello Per messaggiarvi Perché è anche molto più sicuro Ma vabbè Tant'è chi se ne frega C'è un canale Offerte.tech Ve lo lascio Il link anche di questo Dove metteremo Appena uscirà La promozione Il link Che vi porterà Direttamente Al prodotto Ripeto Scorte limitate Ma ci saranno Veramente Degli affari E se avete il dubbio Che ci saranno solamente Dei fondi di magazzino Degli A20 Delle cose Che non sono così Interessanti Vi dico Che se andate Sul mio blog A guardare La classifica Dei miei smartphone Preferiti E anche Dei miei gadget Beh Fate uno più uno Togliete lo sconto E io vi ho già Detto Eh Troppo Rispetto a quello Che potevo dirvi Vabbè Mi mangio il biscotto Mi lancio il link qua sotto Questo è stato L'unboxing Delle rivelazioni Buoni I sorsi sono fatti a mano